Buongiorno ragazzi, buon lunedì e bentornati in un nuovo video, come al solito. Forza Juventus, ora testa al derby, giochiamo sabato, quindi abbiamo qualche giorno a disposizione per respirare, un attimo buttare via tutta questa aura anche negativa che ci ha accompagnato in questi giorni, cercare di ricaricare le batterie in maniera positiva guardando la classifica con un po' più di ottimismo perché abbiamo tolto una giornata, abbiamo allungato su quelle dietro e quindi dovrebbe essere molto più facile adesso ragionare sulla Champions, ma non dobbiamo per forza di cose pensare di essere già arrivati perché se pensi di essere già arrivato abbiamo visto cosa succede a questa Juventus che dal punto di vista mentale è ancora troppo debole e arriveremo a parlarne perché anche Locatelli stasera ha fatto dei discorsi molto interessanti che vanno a incastrarsi con quelli di Scesni e Chiesa dalle settimane precedenti. Come al solito un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale, dobbiamo raggiungere 4-250.000 iscritti, sarebbe bello farlo dentro un mese ma è ovviamente francamente impossibile, ma uniscite la community anche te e a tal proposito grazie per il video di ieri sera del post partita che è andato molto bene. Analizziamo le parole di Allegri e quelle di Locatelli nel post match di Juventus-Forentina 1-0, partita decisa da un gol di Gatti. Allegri dice, gli chiedono, come si spiega il cambio tra primo e secondo tempo? Molto semplice per lui, ci sono anche gli avversari, noi vorremmo tenere la palla per 90 minuti, tirare 30 volte e non subire mai un tiro, ma è fantasioso, neanche nei sogni possiamo arrivare a fare questa cosa. In questo momento della stagione è quello che conta il risultato, lavoriamo per dare un gioco migliore, per non far tirare in porta gli avversari, a volte ci riusciamo, a volte no. Ora, estremizzare rende molto il concetto solitamente, però non è questo che si chiede alla Juventus. La domanda era specifica, perché il primo tempo organizzazione, ritmo, intensità, aggressività, baricentro alto, nel secondo tempo tanta passività, Juventus che ha subito, Juventus che ha ballato, Juventus che non sembrava una squadra pronta per reggere l'urto, l'impatto di una squadra che doveva per forza di cosa segnare il gol del pareggio, poi a Fiorentina ha dei limiti, lo sappiamo, però quello che conta è la Juve. La Juventus cambia proprio l'atteggiamento, non è un discorso che ci sono anche gli avversari, o almeno sì, ma non solo. E Allegri, come al solito, è bravo a parole, a sviare, a mandare il discorso dove vuole lui, non gli interessa rispondere a questa domanda, non ha veramente la benché minima voglia di parlare di questi argomenti, di gioco, robe varie, e quindi usa un iperbole per massimizzare il tutto ed estremizzare questi concetti. E allora i giornalisti incara la dose, sì, però c'è troppa differenza di atteggiamento tra i due tempi. C'è stata quindi una volontà di cambiare? E Allegri, ancora una volta, va per estremi e dice noi cerchiamo di giocare nell'area avversaria per 90 minuti. Poi ci sono gli avversari e per questo non ci riusciamo. Beh, meno male, sarebbe come giocare contro dei bambini per giocare 90 minuti nell'area avversaria. Poi non mi sembra questa la volontà, la decisione della Juventus, non mi sembra questo il mood con cui scendono in campo i giocatori della Juventus, le partite non mi sembrano preparate per giocare 90 minuti nell'area avversaria, poi magari sbaglio io, ma non credo che sia soltanto un discorso di avversari. Nel secondo tempo potevamo fare meglio. Noi lavoriamo per giocare con una pressione molto alta e schiacciare gli avversari. Anche questo in alcuni momenti della partita, anzi esagero, esagero anch'io, cerco di fare lo stesso gioco di Allegri, in alcuni momenti della stagione. L'abbiamo fatto molto all'inizio, l'abbiamo mollato nel mezzo, l'abbiamo rispolverato di tanto in tanto, un po' con l'Inter, un po' con il Napoli, nel primo tempo stasera con la Fiorentina, però non è una cosa che noi abbiamo di default. Se pensi alla Juventus di Allegri 2023-2024, la prima cosa che ti viene in mente non è una squadra che cerca di pressare, di mantenere gli avversari nella propria metà campo, una squadra che vuole giocare 90 minuti nell'area avversaria. Queste sono tutte cose che, almeno personalmente, non mi è sembrato di vedere all'interno di questa stagione. Non credo che siano le priorità della Juventus e le priorità di Allegri, però potrei sbagliarmi, magari la volontà della Juve è proprio quella, semplicemente l'output non è quello che percepisco io. Stiamo facendo un percorso con tanti ragazzi giovani, sul finale potevamo gestire la palla meglio. Un conto è se la gestisce uno di 30 anni, un conto è se la gestisce uno di 18. sono cose anche abbastanza basilari, non dovrei nemmeno ricordarle. Ora, anche qui, è l'ennesima modo di estremizzare, no? Una frase del genere, secondo me, in una serata simile, il mordersi la lingua, così, il mordersi la lingua, che necessità c'è? Io lo so che il riferimento è a Ildiz, Reo, secondo Massimiliano Legre, di non essere andato alla bandierina, però Ildiz ha fatto la giocata. Si è guadagnato il fallo, ha guadagnato una punizione. Questo credo che sia un po' l'errore di Allegri, cercare di adattare tutti i giocatori alla sua idea, piuttosto che adattarsi lui alle caratteristiche dei giocatori. Cioè, Ildiz è un giocatore che non vuole andare dalla bandierina. Mi ricordo un po' Di Bala nel primo anno alla Juventus. Allegri la racconta spesso, sta cosa dice Di Bala, contro il Frosinone, non va dalla bandierina, quando gli chiamano la bandierina, prendiamo la ripartenza, prendiamo il gol e non vinciamo la partita. Ecco, io credo che ci siano diversi modi comunque di far passare il cronometro. Poi Allegri preferisce, predilige quello, però poi bisogna anche fare un po' i conti con i giocatori che si hanno. Ildiz comunque ha fatto una giocata giusta, se ci pensiamo. Non è che è sbagliata, è semplicemente una giocata differente da quella che aveva in testa l'allenatore. Poi io non ho sentito le parole del prepartita, ma ho letto delle trascrizioni, anche da fonti abbastanza affidabili, autorevoli, che dicevano che Allegri aveva etichettato Ildiz come un buon cambio, perché in questo momento Milik è fuori e Ildiz e Chiesa hanno caratteristiche simili, per lui sono giocatori che giocano tra le linee, quindi o gioca uno o gioca l'altro, e Ildiz era un buon cambio. Io credo che la Juventus sia l'unica squadra in Serie A a poter vantare un cambio come Ildiz, perché noi adesso lo stiamo facendo passare come ragazzino. Io sono convinto che nei top club europei farebbero carte false per avere un giocatore con questo potenziale e lo metterebbero al centro del progetto. Poi magari sbaglio io, però la mia percezione è questa, che sia un giocatore fondamentale, un giocatore forte, un giocatore con delle caratteristiche interessantissime e che è destinato a fare grandissime cose con la Juventus anche nel futuro prossimo, senza dover pensare a 5, 6, 7 anni. Chiesa è esagerato, anche lui ha detto dentro 5 anni pallone d'oro. No, no, però sono convinto che entro 5 anni possa essere un giocatore determinante per la Juve e sarò triste di essermi sbagliato, in caso contrario. Ma Ildiz mi dà veramente le sensazioni di essere uno dei pochi calciatori che esce dai settori giovanili ed è già pronto per fare differenza nelle prime squadre. Io non so se è successo qualcosa tra Ligre e Ildiz, perché in più di un'occasione, nell'ultimi 60 giorni, mi è capitato di pensare di sì, a partire dall'esclusione contro l'Empoli per far giocare Milik. E poi è tornato a Chiesa e Ildiz è passato in panchina. Cioè, mi è sembrato quasi di metterlo nel dimenticatoio. C'era stata nel mezzo una mezza polemica perché Ildiz aveva messo like a un commento che andava contro la gestione Allegri e poi Ildiz si era giustificato tramite l'Endourage dicendo no, l'ho messo per sbaglio, un po' come era successo a Sule, un po' come è successo a Bremer. Questi calciatori si stanno continuando a sbagliare, sono distratti sui social, cliccano un po' per tutto. Questi like vanno, girano, fanno il momento hype e niente. Però da quel momento lì io Ildiz lo sto vedendo sempre meno, poi banalmente, sarà una coincidenza. Non so se è successo esattamente quello, però Chiesa ci aveva fatto capire che qualcosa, forse in allenamento con Ildiz era accaduto e Allegri ci ha parlato spesso e volentieri di un dover rimettere la cresta, abbassare la cresta, la testa a posto, prima si allenava male, ora si allenava un po' meglio e questa cosa qui. Però secondo me qualcosa tra Ildiz e Allegri è accaduto. Io non so cosa, non ne ho idea, però mi sembra che anche Allegri non perda mai l'occasione per bacchettarlo un po', questo ragazzo. Avete anche voi la stessa sensazione? Voglio parlare però principalmente delle parole di Locatelli, perché Adazon hanno spinto in particolar modo su quella che è la valorizzazione che può dare un allenatore a una squadra e hanno addirittura chiesto il numero di punti che può portare un allenatore. E Locatelli dice che l'allenatore è fondamentale, noi seguiamo quello che ci chiede e che ci dice. Tra i due tempi non c'è stata una scelta, noi volevamo fare la stessa partita del primo tempo, ma ci siamo abbassati troppo, non solo per demerito nostro, ma anche per merito loro. È stata una sofferenza, ma era fondamentale vincere e questa è la cosa che conta. Allora, io sul sito della Serie A sono andato a tirarmelo fuori, ora vado a recuperare il dato esatto, del baricentro della Juventus, e nello specifico il baricentro del possesso palla proprio. Nel primo tempo la Juventus, quando aveva la palla, aveva un baricentro di 45.58 metri, un baricentro anche abbastanza alto, un pelo meno rispetto alla metà del campo, però il baricentro abbastanza alto in relazione a quello che è stato quello del secondo tempo, sempre quando l'Eventus aveva la palla, perché da 45.58 nel secondo tempo passiamo a 33.99. Abbiamo abbassato di oltre 10 metri il baricentro quando aveva la palla noi. E credo che questo spieghi anche abbastanza bene quella che è stata la grande differenza. E Locatelli è stato molto bravo a indovinare, tra virgolette, ma lui dal campo avrà avuto una percezione ancora maggiore rispetto alla mia dalla televisione, poi i numeri lo confermano, però sono molto d'accordo con Locatelli. Ci si abbassa troppo. E quando ti abbassi così tanto è ovvio che vengano meno anche le linee di passaggio, perché meno spazio e meno linee di passaggio e meno possibilità di fare una determinata trama. E contestualmente si potrebbe essere alzato quello della Fiorentina, anche se in realtà quello della Fiorentina, bene o male, è sempre stato lì, sì, anzi si è addirittura abbassato il possesso palla della Fiorentina, però non è stato tanto quello il problema, quanto più che la Juventus invece si è abbassata di oltre 10 metri. E quelli si sono sentiti tutti. E poi Locatelli dice una cosa molto interessante, e dice la vera sfida non è rispetto alle altre, ma rispetto a noi stessi, perché dobbiamo metterci in gioco, arrivare in Champions e in finale di Coppa Italia. Allora prende all'assist e gli dicono ma non vincere, ma arrivare in finale di Coppa Italia è in Champions, che tipo di stagione sarebbe? E Locatelli qua è furbo, dice è una domanda difficile, e Ambrosini dice no, è una domanda facile, e lui dice no, è difficile, perché c'è sempre qualcosa sotto, perché sa che poi può essere incastrato. E allora dà una risposta molto politica, e dice noi ci siamo visti molto vicino all'Inter, c'è da essere onesti, ed è l'ennesima confessione che abbiamo dallo spogliatoio della Juventus. La delusione è stata tante, abbiamo pagato anche le partite dopo, e quindi ancora una volta dopo Chiesa, Cesnie, abbiamo una nuova confessione, sì la Juventus ha creduto anche tanto l'altro giocatore, uno scudetto, questa cosa ha portato una ventata di negatività che poi si è trasformata in queste partite qui. Tornare in Champions è un aspetto importante, poi vincere o non vincere la Coppa Italia cambierebbe tanto, c'è da esserne onesti, ma capisco le parole di Locatelli, dato che è un giocatore che non ha ancora mai vinto nessun titolo con la Juventus, e avrebbe voglia semplicemente di alzare un trofeo, metterlo in bacheca anche a livello di club. E dopo continuano su questo discorso, il gioco, gioco è una parola che è tornata fuori, boh, non so nemmeno perché dal niente, era da tanto che non si parlava di gioco, la parola gioco, la sentivo molto negli anni precedenti, nel primo ciclo di Allegri, stasera invece è tornata fuori tantissimo, forse anche utilizzata un po' così come tappabuchi, però hanno chiesto, ma è possibile per questa Juve dominare tutta la partita con il gioco? e Allegri e Locatelli dice, sì, sono d'accordo, dobbiamo farlo perché ci sono margini di miglioramento, per i giocatori che siamo dovremo tenere di più la palla e decidere noi le giocate, alcune partite ci abbassiamo e sono step da fare come margini di miglioramento, noi a volte sbagliamo delle scelte, come per esempio sui contropiedi, ma sbagliamo tutti, dobbiamo migliorare tanto e da un po' di tempo. Ragazzi questa è una risposta di livello, di Locatelli ma che ci dice anche tante cose, che loro sanno di essere forti, sanno di poter dominare la partita tramite anche il possesso palla, loro sanno di poterne fare di più, ne fanno di meno, perché purtroppo si abbassano troppo, boh, la domanda successiva sarebbe stata, ma vi abbassate perché vi abbassate voi o vi abbassate perché ve lo richiedono? Secondo me era una domanda interessante, perché Locatelli si stava un po' sbottonando, poi magari non avrebbe, anzi sicuramente non avrebbe mai risposto a questa roba qua, però avremmo avuto una sorta di, anche vedere la reazione alla domanda, come ci girava intorno, sarebbe stato importante. E poi quando dice da un po' di tempo, cavolo, perché se per tre anni che è così e il problema è questo qui, poi ci si abbassa e ci si abbassa troppo, e Locatelli dice da un po' di tempo perché è un signore, e cavolo, se per tre anni, sai che il problema è quello e per tre anni non lo risolvi, c'è qualcosa che non va, dico tre anni perché Locatelli è la Juventus da tre anni, quindi fa questo tipo di ragionamento. E poi c'è una sorta di contrapposizione tra la visione di Allegri e quella di Locatelli, perché Allegri parlava di, eh, la gestione della palla è di 18 anni, 30 anni, diverso, invece Locatelli la vede in chiave più positiva rispetto che negativa, e cioè da quando sono qui abbiamo perso un'esperienza e guadagnato in brillantezza, giovinezza e spensieratezza. Quest'anno dobbiamo tornare a vincere un trofeo e tornare in Champions League, quindi per Locatelli è una cosa positiva, e lo è anche per me, ma lo è in generale per il calcio, per il movimento calcio, soprattutto per quella che è la situazione anche in Italia, per quella che sarà la situazione della Juventus nei prossimi anni. E bisogna tornare a lavorare su questi profili qui. La Juventus dell'anno prossimo sarà allenata la Tiago Motta? Questo sembrano dirci le discrezioni, ma ne parleremo nella giornata di domani. Oggi pomeriggio chiudiamo il cerchio di Juventus Fiorentina con le pagelle, e poi domani iniziamo a fare tutti i ragionamenti anche sul futuro. Ciao a tutti ragazzi, e forza Juventus!